Un saluto dal Tg della mobilità. Domani riete Atac a rischio per 24 ore a causa di un'agitazione indetta dal sindacato Faisa Cisal. Dalle 8.30 alle 17 e poi ancora dalle 20 a fine servizio, stop saranno possibili su bus tram, filobus, metropolitane e ferrovie urbane Romalido, termini Centocelle e Roma Civita Castellana Viterbo. Già questa notte saranno possibili invece disagi sulla rete dei bus notturni. Per quel che riguarda Roma TPL invece sempre domani è in programma un'agitazione di 4 ore dalle 9 alle 13 che coinvolgerà però soltanto 8 linee di bus periferiche gestite dal consorzio.